Far entrare la cultura enologica a scuola attraverso un vero e proprio insegnamento. È l'ambizioso progetto che la Fondazione Italiana Sommelier sta portando avanti da tempo, ribadito a Borgo Ignazia, dove gli esperti si sono ritrovati per la settima giornata nazionale del vino dell'olio. Dibattiti ma anche la degustazione del buon vino per celebrare l'autentico Made in Italy e raccogliere adessioni al progetto di ottenere lezioni sul vino nelle scuole alberghiere, dove questo insegnamento non esiste. Il vino è cultura ed arte, ne siamo consapevoli tutti e quindi stiamo cercando attraverso vari meccanismi di mettere il vino a scuola. Nell'ambito dell'incontro il presidente della regione Puglia, Emiliano, è stato anche insignito del prestigioso titolo di Sommelier d'Onore, quale grande promotore della Puglia esportatrice di vino. Ma la geografia della produzione sta cambiando in Europa, condizionata dalle variazioni climatiche e dal riscaldamento del pianeta, che sta rendendo accoglienti per la vite luoghi per essa sino ad ora in ospitali, come la Gran Bretagna. Ci si chiede cosa accadrà nella vigna Italia tra qualche anno. La geografia della produzione del vino e soprattutto qualità del vino. Non è detto che andrà tutto peggio, potrebbe andare anche meglio. In primo piano anche le strategie per sviluppare la produzione dell'olio artigianale, più nutriente e gustoso, ma costoso da produrre. La cosa più semplice da fare è un ricollo a saperi e sapori, cioè la Puglia delle tradizioni, delle qualità e delle specificità, della biodiversità, con la maestria sapiente del mastro di Frantoio.